Che fine ha fatto la tua ma... Ah oh c'è un amante? Io quale amante raga? Cioè quale della settimana bene o male? Cioè due lunedì, due martedì, mercoledì, venerdì, eccetera Dai, per favore, ma perché mi devo sempre arrabbiare? Cioè io posso scherzare dicendo che ho tipo un'altra Lei ci crede? Questa è una cosa divertente Una volta è venuto... Adesso vi racconto questo aneddoto No no Una volta è venuto da me No no Era poi ad Halloween, sì, è venuto giù da me Praticamente... Questa polta Praticamente mi ha detto una battuta Mi ha detto una battuta che vabbè era... Perché l'altra volta mi ha scritto tipa, insomma Io lì incazzatissima Mi fa adesso tu mi dai il telefono e mi fa... Anche se lui mi diceva guarda che non sto scherzando Mi fa tutto, adesso mi dai il telefono Voglio leggere tutte le chat Però dopo non c'era niente Però mi erano arrabbiato tanto Ragazzi aiutatemi, aiutatemi Per favore, c'è il loro che hai fatto adesso il Prime Aiutami Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti